Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione dell'area di Porta Leoni a ridosso delle bellissime mura urbiche alle spalle della Basilica di San Bernardino? A chiederlo è il presidente del Comitato Cittadino di Porta Leoni, Giacomo Pio, che riunisce gli inquilini degli alloggi popolari dell'Ater di Via Panfilo Tedeschi. I soldi per la riqualificazione dell'area ci sono, circa 4 milioni di euro stanziati con una delibera Cipe nel 2017. Il progetto anche, mentre è stato sottoscritto l'atto di procedimento amministrativo per l'acquisizione dell'area, sulla quale sorgono gli alloggi di Porta Leoni con l'ex sindaco Massimo Cialente e l'amministratrice unica dell'Ater Francesca Aloisi, per poter assegnare agli inquilini altri alloggi della residenzialità pubblica. Alcuni sono nel quartiere di Pettino, palazzine appena ricostruite antisismiche, altri in centro storico. Quel che manca è l'esecuzione di uno dei progetti strategici più importanti lasciati in eredità dalla passata amministrazione e che prevede parcheggi interrati e un bel vedere con affaccio sul Gran Sasso. Dopo dieci anni in cui il Comune e l'Ater si sono rimbalzati la responsabilità della ricostruzione delle case in via Panfilo Tedeschi spiega il referente del Comitato Cittadino siamo dovuti venire a conoscenza tramite i giornali online della completa non curanza del Comune riguardo il futuro di chi prima abitava in centro e ora è disperso tra i progetti case. I cittadini del Comitato denunciano di essere stati puntualmente ignorati dal Comune, dalla passata e dall'attuale giunta e mai interpellati dall'Ater. Quello che chiediamo, dice Giacomo Pio dopo dieci anni, è che ci venga riconosciuto lo stesso diritto di tutti i nostri concittadini tornare a casa nel nostro quartiere, nella nostra città.